Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi. Gruppo A, gruppo B, gruppo C. Durante la preghiera di protezione vi chiedo di mettere la mano sul vostro cuore, di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Potrebbe essere solo uno, due o tutti e tre. Iniziamo con la preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono la lettura angelica. Invoco te, arcangelo Michele, invoco il maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza amicaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Con amore vi chiedo di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo luce, amore, pace e guarigione. Chiedo massima protezione psichica, fisica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie al maestro Gesù, grazie all'intera coscienza amicaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo a mischiare le carte. Prima carta, gruppo A, abbraccia il tuo scopo nella vita. Vediamo ora per il gruppo B. Eccola qui, si è capovolta. Apri il tuo cuore, gruppo B. Gruppo C, riprenditi il tuo potere indietro. Gruppo A, tu e i tuoi cari siete al sicuro. Gruppo B, gruppo B, questo è lo scopo della tua vita. Gruppo C, ammetti la verità con te stesso, con te stessa e agisci di conseguenza. Vediamo ora le carte delle fatte. Gruppo A, una pausa di silenzio. Gruppo B, lascia che sia. Gruppo C, sono cadute due carte. Una è l'indipendenza e l'altra, i sogni diventano realtà. Bellissima anche questa. Bene, vediamo un attimino. Iniziamo con la nostra lettura angelica. Gruppo A, abbraccia il tuo scopo nella vita. Credici. Quello che senti nel tuo cuore, essere giusto, essere reale, essere la strada giusta per te, è assolutamente il tuo cuore che ti sta guidando. L'Arcangelo Michele ti sta guidando nel tuo scopo nella vita. Fai quello che ti dà gioia, dicono gli angeli. Ed è questo che andrà a manifestare il tuo scopo nella vita. Magari sei un po' troppo caotico, caotica in questo momento. Arrivano dei pensieri di sconforto, delle emozioni di paura. Fa una pausa di silenzio. Mettiti in meditazione, in preghiera. Ascolta quello che il tuo cuore ha da dirti, ha da mostrarti. Perché facendo silenzio nel tuo cuore avrai chiare le idee. Cerca di non preoccuparti troppo per i tuoi cari, per i tuoi figli, o per i fratelli, o per i genitori, insomma, o per il marito o la moglie, o il compagno o la compagna. Perché sono al sicuro. Va tutto bene. Tutto è in allineamento. Andrà tutto bene. Ok? Sei proprio guidato. E guidata in questa direzione. Quindi non temere, non aver paura. Perché questo è lo scopo divino della tua anima. Abbi fede e fiducia che si manifesterà nel modo giusto, nel momento giusto. Tutto ciò che stai chiedendo al cielo, tutte le tue preghiere, sono state ascoltate. Ok? Anima bella. Bene, passiamo al gruppo B. Allora, gruppo B, apri il tuo cuore. Apri il tuo cuore come? Perdono, guarigione del cuore. Apri il tuo cuore all'amore, alla gioia, alla bellezza. Allontana chi non serve il tuo massimo bene. Allontana chi abbassa le tue frequenze. Allontana chi scoraggia i tuoi sogni. Ok? Però è anche vero che devi uscire dal tuo giudizio. Non giudicare né te stesso, né te stessa, e neanche gli altri, neanche le altre persone. Fa sì che sia l'amore a guarire questa situazione, che possa essere una relazione d'amore, una relazione familiare, o una relazione di lavoro. Diciamo che tutto è a posto, perché sei nello scopo. Cioè, stai seguendo il tuo scopo divino, sei in allineamento al tuo scopo divino. Quindi, abbi fede e fiducia, che tutto si sta manifestando nel modo giusto. Quindi ci vuole meno controllo, meno ego, meno giudizio, più affidamento. Ecco, la parola giusta è affidarsi a Dio, affidarsi alla sorgente, affidarsi all'Arcangelo Michele. Ok? Vi consiglio la preghiera di affidamento completo all'Arcangelo Michele, che trovate qui su YouTube, o il tradizionale processo di liberazione. Questo ci aiuta un po' a uscire dall'ego, a staccarci da queste resistenze, a aprire il nostro cuore all'amore più pure, più grande. Ok? Bene, passiamo al gruppo C. Riprenditi il tuo potere. Forse ti sei dimenticata, dimenticato chi tu sei veramente nella tua completezza, nella tua totalità. Tu sei una figlia dell'amore divino. Tu sei una figlia di Dio, Dea, padre e madre. Quindi, riprenditi il tuo potere. Forse stai cedendo il tuo potere in una relazione, forse stai permettendo agli altri di controllarti e di dirti cosa devi fare, chi devi essere, come ti devi comportare. Riprendi il tuo potere e vedrai che tutto andrà bene nella direzione giusta. Quindi, ammetti la verità e agisci di conseguenza. Tu hai creato questa realtà dentro di te. Sai quali sono i tuoi, non errori, ma i tuoi blocchi, le tue paure. Quindi, lasciali andare, riprendi la tua indipendenza perché stai dipendendo troppo dagli altri. Le decisioni della tua vita le devi prendere da solo, da sola. È venuto il momento di avere indipendenza in tutti i livelli e questa è una carta positiva perché nel prossimo futuro arriverà di indipendenza dal punto di vista economico e anche di relazioni del tipo sbagliate e tossiche. Ne stai uscendo, quindi vai avanti, non fermarti e non solo, i tuoi sogni diventeranno realtà. Quindi tutti i tuoi sogni, quello per cui tu stai pregando, assolutamente si sta manifestando, sta arrivando nella tua bellissima vita. Datemi un secondo, sono qui per leggervi anche un messaggio da questo libro, quindi chiediamo agli angeli, all'arcangelo Michele di aiutarci, di darci guida ed assistenza per il massimo bene di tutte le persone coinvolte, abbandona le scorciatoie. Non sempre la via più breve porta la soddisfazione ai vantaggi di una lunga camminata lungo la strada maestra, la via maestra dell'amore. È il momento di percorrere interamente il tragitto al quale sei destinato senza furbizie perché il tragitto è indispensabile, quindi attendi, lascia andare il controllo, affidamento completo all'arcangelo Michele e vedrai che tutto andrà bene per la manifestazione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi dell'anima e del cuore in allineamento allo scopo divino della tua anima, anime infinite. Io ho finito la lettura angelica per questa settimana, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare letture angeliche, private, va bene, guarigioni con le nuove frequenze di luce e anche i corsi di formazione per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce. Il prossimo corso inizierà il venerdì, molto probabilmente venerdì 15 novembre, ok? Per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi, io vi auguro una settimana di allineamento al vostro scopo nella vita, ci vediamo, a presto, ciao ragazzi, ciao ragazze.